In questo breve video vedremo come poter implementare il digital storytelling dal punto di vista didattico in classe, poiché storytelling e il digital storytelling sono una delle metodologie didattiche attive. I materiali presentati di seguito sono coperti da copyright e secondo la licenza Creative Commons in particolare, secondo la variante buy, nel senso che la fonte deve essere citata, e nc vale a dire finalità non commerciali. Innanzitutto vediamo una breve introduzione, cioè cosa è e a che cosa serve lo storytelling. Lo storytelling in sé è l'atto di narrare una storia e dal punto di vista didattico consiste nell'apprendere un contenuto mediante la sua narrazione, che non per forza è multimediale, può essere anche semplicemente orale. Lo storytelling digitale aggiunge l'apporto della multimedialità, aggiunge dunque, per esempio, l'uso delle tecnologie come dei video, delle immagini digitali, che possono essere realizzate dallo studente oppure semplicemente reperite in rete. Perché tanta enfasi nella narrazione? Per due motivi. Il primo è perché l'uomo da sempre ha rinsaldato i suoi legami, ha costruito la sua identità attraverso la narrazione. La stessa, i stessi graffiti, le caverne, erano spesso forme di narrazione. E questo è avvenuto sin dall'antichità, ma avviene anche in ciascuno di noi. Infatti, le prime forme di apprendimento da bambini avvengono mediante la narrazione ascoltata o elaborata. Quindi, la nostra singola personale antichità è passata, in ogni caso, per dei sistemi narrativi nei quali abbiamo marcato la differenza con l'altro, quindi la costruzione di un'identità, o abbiamo invece marcato l'appartenenza ad un altro, per esempio ad un gruppo, un gruppo familiare, per esempio un clan, una tribù. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che oggi gran parte della comunicazione, anche multimediale, è concepita secondo lo schema dello storytelling. Vale a dire, secondo uno schema per cui, ad esempio, un prodotto viene comunicato come facente parte di un'esperienza più ampia, come una sorta di passaporto a una partecipazione o al riconoscimento di un gruppo o in un gruppo. Quindi oggi la comunicazione, che sia scolastica, commerciale o persino politica, è fortemente debitrice di questo sistema di narrazioni. Perché adoperarlo a scuola e perché adoperarlo come metodologia didattica? Per essenzialmente due motivi. Il primo è che è una metodologia didattica che va a intercettare il vissuto degli studenti e quindi può aprire loro la strada e aprirci, noi insegnanti, la strada per una maggiore creatività. E poi perché c'è un forte grado di immedesimazione. Un conto è raccontare una storia immaginata da noi, che naturalmente passa per dei contenuti appresi, e un conto è ripetere dei contenuti altrui. Perché tanta enfasi ora, anche a scuola? Indubbiamente perché le tecnologie hanno reso possibile quello che, fino a qualche anno fa, sarebbe stato più difficoltoso implementare. Quindi gli strumenti 2.0 non possiamo negare che abbiano, da questo punto di vista, accelerato questo processo di ingresso del storytelling digital, oppure no, nella nostra scuola. Dal punto di vista didattico entriamo un po' di più nel merito. La domanda che ci si fa è perché mai utilizzare questa metodologia in classe? Innanzitutto perché è una metodologia non frontale, è una cosiddetta metodologia attiva, come può essere la classe capavolta, l'apprendimento tra pari, l'apprendimento cooperativo. Allo stesso tempo perché il digital storytelling crede molto nella creatività dei nostri ragazzi, anzi, lavora su quella creatività. Si parte, indubbiamente, da dei contenuti perché quelli non vanno dimenticati, ma si cerca di affiancare quei contenuti a una cornice narrativa che è singolare, che è individuale, che è unica, che è del singolo nostro studente. Un altro aspetto per cui vale la pena implementare il digital storytelling è la sua intrinseca multidisciplinarietà. Una narrazione non è mai monotematica, ma quasi sempre intercetta argomenti che sono anche piuttosto eccentrici rispetto al tema centrale, quindi può essere un'apertura, una didattica multi- o interdisciplinare. Un altro motivo è che il digital storytelling può divenire un compito autentico, non lo è di per sé, però può essere strutturato di modo da rispondere alle caratteristiche di una cosiddetta prova di realtà, un compito autentico. Un altro motivo che può spingerci a sperimentare il digital storytelling è perché ci dà modo, anche in questo caso non in maniera automatica, di fare cosiddetta didattica per competenze, quindi rafforzare, che so, competenza di imparare ad imparare, o le competenze civiche, oppure, ed è forse la più importante, quella della consapevolezza ed espressione culturale. Inoltre, non da dimenticare che lo storytelling, lavorando soprattutto sulle tecnologie, se lavora sulle tecnologie, può essere anche un ottimo modo per ragionare delle tecnologie, sulle tecnologie, per esempio sul loro grado di persuasione, sul loro impatto emotivo, e quindi, in altre parole, di fare un approfondimento su quella che può essere chiamata l'educazione ai media, la media education. Molti, alle prime armi sul digital storytelling, non vedono la differenza con una presentazione multimediale, e in effetti ci può essere confusione. Tutta la differenza è fondamentale. Il digital storytelling non coincide con una presentazione multimediale perché ha al suo contorno una cornice narrativa. Una presentazione multimediale non ha, per forza, una cornice narrativa. Può essere un elenco discreto di elementi, tra loro non legati da una storia. Quindi non sono sinonimi digital storytelling e presentazione multimediale. Diciamo anche che il digital storytelling non è mai puro, nel senso che un progetto, come qualunque altra metodologia attiva, quasi sempre coinvolge anche alcuni aspetti legati al gioco di ruolo. Nel momento in cui uno studente impersona un certo personaggio storico, letterario, il confine fra storytelling e role play è sottile. Allo stesso tempo, quando uno studente deve trovare la giusta via comunicativa per rendere un contenuto, si trova di fronte a un problema che somiglia molto a un problem solving, cioè a risolvere un problema comunicativo, per esempio. Oppure, nel momento in cui uno studente racconta la sua storia, è probabile che, se opportunamente guidato dal docente, possa sperimentare la didattica tra pari o addirittura cooperativa se il docente ha strutturato l'esperienza didattica secondo le regole dell'apprendimento, le tante regole dell'apprendimento cooperativo. Ora entriamo più nel merito delle tipologie. In quanti modi è possibile realizzare una narrazione? Tantissimi, naturalmente. A noi interessano quelle soprattutto di natura didattica, cioè quelle che possono essere riutilizzate in classe. Ora, di seguito, vedremo le più note. Una è il prologo o il finale alternativo. Si sceglie una storia e, con delle dovute indicazioni, si dice ai ragazzi di scriverne un prologo immaginario o un altro finale. Un'altra tipologia è lo spin-off. Lo spin-off consiste nel prendere un personaggio o un evento minore di una storia maggiore e di trasformarlo in una narrazione. Il cinema hollywoodiano ha raggiunto spesso molto successo tramite lo spin-off. Quello che state vedendo è uno spin-off della Rowling che approfondisce, mediante un libro e un film, degli aspetti minori di Harry Potter, in particolare degli animali magici e incantati, che da piccolo riferimento dei libri di testo è divenuto poi un'opera a sé stante. Oppure, questa è una delle forme più utilizzate, persino i libri di testo stanno cominciando ad implementarli, dialoghi immaginari. Dialoghi immaginari in cui si presuppone che due personaggi anche di epoche storiche diverse possano colloquiare su dei temi che abbiano naturalmente una valenza didattica. Molto simili sono le interviste impossibili. In questo caso vediamo Umberto Eco che intervista Beatrice di Dante. Sono molto utili anche didatticamente perché gli studenti, creando le domande, ipotizzando le risposte, ci introducono a dei temi che di norma vengono da loro raccontati e spiegati in maniera volte più impersonale o più formale. Un altro esempio può essere la ricostruzione storica. Uno storytelling è anche ricostruzione storica, magari con dei dati, il che rende il lavoro impegnativo e didatticamente efficace. Oppure, e qui siamo allo storytelling puro, tra i più difficili da implementare a scuola, un racconto. Un racconto di dimensione è storytelling. Qui naturalmente occorre regolamentare l'esperienza attraverso una serie di vincoli, altrimenti per i ragazzi diventa molto molto difficile trovarsi di fronte alla pagina bianca, però anche questa è una possibilità. Oppure, la autobiografia o la pseudo-autobiografia, si immagina cioè che un personaggio non intervistato da nessuno racconti la propria storia. Si può anche sviluppare un storytelling per reportage. Questa è una celebre foto di Salgado. Il reportage può essere fatto dagli stessi ragazzi, fotografando, sempre opportunamente seguiti dal docente, una serie di aspetti, per esempio, della loro città. Possono far parlare i monumenti, ad esempio. Possono far parlare le strade, i ragazzi possono far parlare le vie, le vie delle città. Questo potrebbe essere un esempio di reportage fotografico e appunto narrativo. Oppure, molto utilizzato in ambito anglosassone per quanto riguarda le discipline scientifiche, il programma TV. Si immagina che i ragazzi creino un set TV dove spiegano dei contenuti. Quindi qui, oltre all'aspetto contenutistico, c'è anche la riflessione sul linguaggio, perché magari i ragazzi ipotizzano di realizzare una vera e propria programma TV generalista, quindi con un lessico che sia alla portata di un pubblico vasto, oppure specialistico, vale a dire, con un approccio indubbiamente più formale e meno divulgativo. Queste sono le tipologie. Ora vediamo anche le tipologie di prodotti che poi praticamente possono divenire gli storytelling di cui abbiamo parlato. Ci riferiamo a quelli più noti e quelli più facilmente implementabili a scuola. Il primo può essere un digital storytelling soltanto testuale. Vale a dire, i ragazzi creano una narrazione che passa unicamente per il testo, scritto a mano, scritto al computer, ma sostanzialmente testuale. Era il caso, dicevamo prima, del racconto di invenzione. Questo è un classico esempio di digital storytelling testuale, digital nell'ipotesi che venga effettuato col computer. Oppure, un digital storytelling multimediale. In questo caso, oltre al testo, ci sono immagini, video e audio. Questo può essere il caso, ad esempio, di un reportage, dove c'è un testo guida, ma ci sono anche delle immagini e anche dei video. Molto interessante, anche per lo studio del proprio territorio, il digital storytelling geografico, che è una variante del multimediale, dove però la multimedialità è essenzialmente centrata agli aspetti dello studio del territorio. Oppure, digital storytelling fotografico. Qui il testo è ridotto al minimo, a parlare sono le immagini, sempre, naturalmente, secondo le indicazioni del docente. Ora, una volta scelta, dunque, la tipologia, vediamo quale può essere lo schema di uno storytelling. Allora, per prima cosa, il docente deve chiedersi per quale motivo sta implementando questa metodologia piuttosto che un'altra. E quindi fissare, come sempre accade, gli obiettivi didattici, vale a dire di contenuto ed eventualmente, perché no, anche trasversali. Uno potrebbe essere la consapevolezza culturale e anche l'espressione di sé. Poi si sceglie una tipologia di storytelling e un prodotto, vale a dire, che so, il racconto autobiografico attraverso un testo. Quindi, tipologia e prodotto. Occorre poi, con una serie di indicazioni, dare tempi ai ragazzi per svolgerlo e per le metodologie attive i tempi sono normalmente lunghi, è molto difficile eseguire un progetto di questo tipo in meno di tre o quattro settimane. E poi l'aspetto più interessante è la valutazione o autovalutazione al termine, dopo aver condiviso una rubrica nella quale gli studenti vedranno su cosa verrà valutato il loro impegno e il loro lavoro. Alcuni consigli possono essere questi. Non centrare lo storytelling unicamente sui contenuti disciplinari e didattici, altrimenti l'impressione che si sta facendo, lezione tradizionale camuffata da qualcos'altro. Quindi sarebbe opportuno includere anche obiettivi di natura trasversale. Per esempio, dicevamo prima, l'espressione culturale. Un altro consiglio è, specie per i docenti alle prime armi, su questa tipologia, scegliere un tipo di prodotto uguale per tutti, altrimenti in fase di valutazione finale è piuttosto difficile mettere accanto un storytelling fotografico con uno che è solo di natura storica, per esempio. Oltretutto gli studenti, solo dopo aver sperimentato tutti lo stesso tipo di problema, possono anche dare dei giudizi di merito su lavori altrui. Un altro aspetto indubbiamente utile le prime volte è quello di fissare tra l'introduzione al lavoro e il momento finale uno o due momenti intermedi, perché è molto probabile che gli studenti ai primi tentativi abbiano tanti dubbi, anche molto semplici, molto operativi, che il docente, che in queste metodologie più regista, coordinatore, del progetto piuttosto che non emittente del sapere, possa loro sciogliere. Questo è fondamentale, approntare una rubrica di valutazione, magari anche con gli studenti, nella quale si sceglie cosa verrà valutato, per esempio la correttezza formale, per esempio l'uso o abuso del linguaggio fotografico, per esempio i ragazzi possono fotografare la propria città in maniera disordinata, senza inserire di dascalia le foto, oppure senza preoccuparsi se certe immagini possano, oppure non possano, essere fotografate e poi divulgate. Qui entriamo nel tema appunto finale, che è quello della valutazione. Sicuramente la valutazione di un compito svolto in metodologia attiva è profondamente diversa da quella tradizionale. Nella valutazione sarebbe opportuno considerare questi aspetti, senz'altro i contenuti, perché lo storytelling non è fare altro, è fare lo stesso attraverso un percorso diverso, quindi indubbiamente c'è la valutazione dei contenuti. Poi un altro aspetto interessante potrebbe essere quello del linguaggio, capire cioè se il lavoro fatto dagli studenti, al di là della bontà dei contenuti, sia idoneo al pubblico a cui si è ripotizzato di rivolgerci. Poi, punto numero tre, ritorniamo alla media education, capire se la multimedialità usata è stata semplicemente un vezzo o sia stata funzionale al testo e alla comunicazione del proprio progetto. Sarebbe opportuno poi valutare anche aspetti come competenze trasversali dell'imparare ad imparare, vale a dire a come i nostri ragazzi possano reperire le informazioni e una volta reperite renderne conto attraverso per esempio bibliografia o sitografie e poi naturalmente il rispetto dei tempi perché progetti come questi richiedono tempi lunghi ma che devono essere in ogni caso rispettati. Ultimi ultimi consigli molto noti per realizzare uno storytelling che sia di impatto. Questi sono consigli molto noti per esempio bisognerebbe invitare gli studenti a usare un punto di vista molto personale quindi evitare una comunicazione troppo formale. Inserire poi delle domande intense drammatiche che drammatiche nel senso tecnico cioè che possano sviluppare la narrazione possano far muovere la narrazione. punto numero 3 abbastanza delicato specie se si ha a che fare con i minori ma è opportuno che lo storytelling apra anche in maniera naturalmente moderata a dei contenuti emotivi personali degli studenti altrimenti questa metodologia rischia di somigliare a una lezione o una restituzione frontale dei contenuti. se lo storytelling è multimediale è molto opportuno utilizzare la propria voce narrante che dà un grande impatto di personalità al proprio lavoro sempre se si adopera un digiastorytelling multimediale è opportuno anche l'uso di una colonna sonora pensiamo a uno slideshow di immagini di immagini del proprio territorio della propria famiglia per esempio sempre con attenzione alla copyright del sonoro scelto e poi e questo è un consiglio che deriva dal mondo della televisione del cinema fare economia di narrazione vale a dire avere quell'abilità per cui gli aspetti più interessanti non vengano subito comunicati al pubblico ma vengano dosati con parsimonia per favorire anche l'interesse stabile durante tutta la narrazione e poi e questo è un aspetto piuttosto difficile cercare di dare ritmo alla storia vale a dire evitare dei passaggi particolarmente lunghi noiosi monotoni che possono far sì che il pubblico lasci poi l'attenzione alcune indicazioni per iniziare anche senza l'uso dello strumento digitale piuttosto che chiedere subito ai ragazzi una narrazione personale è possibile invitare loro ad analizzare degli spot o perché no dei videogiochi dei film delle serie e rintracciare in questi degli aspetti narrativi ed emotivi questo è anche un modo per proteggerli dallo storytelling perché è molto probabile che questa metodologia sveli qualcosa di loro in questo caso invece con l'analisi di opportuni spot o videogiochi o altro i ragazzi fanno come una palestra di analisi su materiale emotivamente altrui un altro aspetto che si consiglia è quello di quando si è accettato di parlare di sé di partire da un oggetto partire di qualcosa di molto concreto una fotografia un oggetto un'esperienza circoscritta e concreta altrimenti rischia di essere molto dispersivo tanto per chi ascolta quanto per chi narra può essere molto utile poi strutturare uno storyboard lo storyboard è una specie di schema dello storytelling in cui ci sono tutti i passaggi questo è naturalmente usato in maniera professionale ma anche per i nostri studenti può essere una linea guida storyboard è quel testo quelle immagini nella quale gli studenti suddividono i passaggi della loro della loro narrazione e stabiliscono se quel passaggio verrà svolto sotto forma testuale sotto forma di immagine è un vero e proprio canovaccio del loro lavoro l'importante questo per arrivare alla conclusione è che dietro questa metodologia che scava piuttosto profondamente nel personale ci sia sempre da parte del docente l'invito all'apprendimento riflessivo vale a dire a fare in modo che questo vissuto che riemerge tramite le narrazioni sia un'occasione per conoscere se stessi per conoscere anche le proprie scelte ad esempio e per essere anche un passaggio significativo dal punto di vista se non necessariamente didattico anche dal punto di vista personale questo è forse l'aspetto più difficile per un docente perché è molto probabile che siamo tutti più che altro abituati a mettere al centro i contenuti e non colui che si trova in situazioni di apprendimento in questo caso le metodologie attive è al centro colui che studia vale a dire lo studente non il contenuto e pertanto occorre essere pronti anche a dare spazio a questo vissuto e a questo momento seguiranno altri video sullo storytelling che prenderanno poi un spunto sulle varie tipologie e approfondiranno i vari tipi di digital storytelling e